Siamo con Cristian Bonaiuto, bella vittoria del Perugia, sofferta ma meritata. Grazie, sì, partita meritata, sofferta a tratti perché comunque penso ne abbiamo concesso tantissimo al Pescara, la potevamo chiudere più volte quindi penso al risultato giusto. Oggi hai giocato 90 minuti interi, tanta corsa, tanta fatica, non hai segnato, hai mancato solo il gol, però insomma hai galoppato in campo. Sì, sì, sono contento sia per la prestazione che per la condizione fisica, penso di stare bene e spero di continuare così. Adesso prossima gara, ancora in casa con Cosenza, che partita vi aspettate? Sicuramente è una partita difficile come tutte in questo campionato, quindi lavoreremo per arrivare al meglio alla partita di lunedì. Grazie. Grazie. Ciao.